Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 18 di questo pomeriggio tra Vivio 1 Variante e Aglio in direzione nord. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il Vivio con l'A1. Infipiricode a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea alla circolazione dei treni sulla Faentina è sospesa da Marradi a Faenza. Anche per oggi 29 febbraio è attivo un sistema di bus sostitutivi. Siamo al traffico navale, quest'oggi sono cancellati i traghetti Piombino Cavo delle 13.10 e Piombino Rio Marina delle 15.30. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.